Nel caso di Giulia Tramontano, 29enne incinta al settimo mese di gravidanza, a cui è stata messa fine la vita dal compagno Impagnatiello, sono arrivati i primi esiti dell'esame autoptico svoltosi nella giornata di ieri. Ed è stato inoltre dato il nulla osta per consegnare il corpo della ragazza alla famiglia e svolgere i funerali che presumibilmente si potrebbero svolgere tra domani e lunedì. L'autopsia ha rivelato che Giulia sarebbe stata aggredita alle spalle e raggiunta da ben 37 fendenti, due sarebbero quelli a lei fatali, alla gola, molto profondi, che le hanno reciso la carotide, giugulare e trachea. Due sono i fendenti alla gola, uno al viso, due alla schiena e altre decine al petto, talmente violente da perforarle anche un polmone. Non emergono fendenti alla pancia. Sarebbe ahimè morta dissanguata. L'impagnatiello ha tentato inoltre di liberarsi del corpo di Giulia, dandole fuoco, due volte. La prima volta con l'utilizzo di alcol, il secondo tentativo invece con l'utilizzo della benzina. Questo impedirebbe agli esperti di risalire al momento esatto del decesso della ragazza. E per ora non si sarebbe capito se nel momento in cui le fiamme sono state appiccate, Giulia Tramontano fosse deceduta oppure in fin di vita, ma ancora viva.